Agosto. Cosa? Vieni, ragazzi! Dio, 10 milioni di dollari. Facci un buon punto. Ok, Fiona, è about to scanalo. Fiona? Cosa si è? L'AMP disattiva tutto. L'AMP disattiva tutto. L'AMP disattiva tutto. Come on down and join the party tonight. We ain't the kind to turn away from a fight. Chips on the shoulders, sweat and dirt on our hands. Cause we're breaking down the borders as we light up the land, yeah! What the hell? It's fake. Beh, quindi è stato scoperto che fosse un falso. Bossa Nova, musicista, motociclista e assassino. Molto metal, il ragazzo. Zero! Un numero più grosso di idee. Grande, Zero. Grande, Zero. Sembra come il nostro buon giorno, ragazzi. Nooo, non va affatto bene. Zero, mui fa qualche pezzo matto. E questi ragazzi venivano con te? No, erano sicuramente non invitati. Cosa sta succedendo? Ehm, ci serve il tuo aiuto. Guarda che massacro. Guarda che massacro. Fumogeno, dai. Ehm, scappiamo. Ciao! Oh! Rischio. Non mi piace molto, infatti, quello che sta succedendo. Vai addosso, addosso al tipo. Cucu, 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 cucu. Boh! Nooo! Non dovevo dirgli di venire a Felix, porca puttana. Mo Zero ci ammazza, eh. Vediamo un po'. No. Quello mo ci spara pure a noi. Ehi, au. Mazza, sta a fare un assaggio di tutti gli altri. Oh! Pistola colpo singolo. Ehm... Salvo il proiettile. No, non mandava di scapp. Spiegarlo così. Ci potrebbe servire in futuro per cose più importanti. Ehm... Gli devo togliere il proiettile dalla spalla, immagino. Non abbiamo più sorprese oggi. Oh, vabbè! 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 Ehm... Ehm... Perché ci stanno sparando da fuori. Ehm... 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 Perché ci stanno sparando da fuori. Ehm... Vai fuori da questo caravan! Via! Grazie! Parti! Oh, fuori da qui! Beh, se spera. Oh, cosa facciamo con loro? C'è lì? C'è lì? C'è lì? C'è lì? C'è lì? C'è lì? Beh, non è lì? C'è lì? Almeno il moneta era vero! Certo, certo, capito? Non ci crederai. Non ci crederai. Ma ci crederai che abbiamo avuto buona ragione per non farlo. Ci darò molto a Sasha. Da inizio, non c'era di confinare loro. Ma io pensavo che stava paranoida. Certo! Cosa è successo? Sì, sì. Dicca il buon padre cosa ci hai fatto con noi. In un momento in cui abbiamo fatto questo. Non so, sì, l'immagino. Abbiamo... Chiaramente discuteremo i termini di un'allianza temporale. Polito uff! Cosa sei un'allianza? Non c'è un'allianza. Non c'è un'allianza. Io propongo che noi formiamo un'allianza per ogni tempo. Mmm... Capitale! Oh, 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 oh! Sì, davvero? È questo il tuo obiettivo? Perché lo ricordo un po' differente. Siamo solo sottolineare loro prima! Sottolineare loro! Sottolineare loro! Sottolineare loro! Sottolineare loro! Ehi! Tu non vuoi fare questo! È proprio sottolineato. Questo è un po' di sottolinea. Ehm... Possiamo trovare i soldi! Cosa? Il caso ha un trattore. Posso seguirlo! Sottolineare loro. Anche se hai il caso di soldi, non puoi ottenerlo. Ha un'allianza biometrica. Non è possibile ottenere senza me e i miei passi. Sottolineare loro. Sottolineare loro i soldi, e io posso ottenere loro. Eh, se ti dice così. Sottolineare loro i soldi è la parte difficile. Allora, Hyperion. Provele. Prende l'argento. Cosa? 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 Oh, chiamare la vetta! Sì, vabbè. Sì, vabbè. Vuoi chiamare più Hyperion dopo noi? Calma, Sasha. Vediamo cosa possono fare. Sì. E poi, chiamarli se fossero trattati. Mh, un po' meno grazie, Felix. Sì. 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 Ti offrirò un altro pranzo. Ehm... No, niente LeaderBot. Non voglio fare il cazzo. Sì. 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 Ma non sarà facile. Vazquez già era pazzesca sul car. Questo era prima che aveva la chiamata di questo... ...guardo. Ehm... ...che due sono stati scolati qui. E' solo che non possono più tornare indietro, eh. Vabbè, tanto avremmo dovuto fare quello delle pulizie. Non senza implicare tutti noi. Ho già avuto la sicurezza per chiedermi tutto che ho conosciuto. Ehm... ...mi serve accesso al network oppure tracciare... ...i soldi. Però tracciami i soldi, certo? Non puoi andare sul network e tracciare i soldi? Tu hai perduto i soldi, anche? Ehm... Ehm... Allora mi serve accesso a me. Ehm... Guardate le spalle. Ehm... Ma... ...ma mo ce la troiamo molto. Ah, 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 no, 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 no. Non so, non so, installare... ... alcune altre porte? Credo che siamo i due Hyperion andati, sull'planetà. Ah, ancora ho Nakayama come IT. Questi progetti creepy black ops come questo... ...danno di avere la sicurezza di sicurezza più di noi. No, stavolta è vero La stiamo a rischia un sacco Adesso c'è una cosa di bruttissimo Sono molto deluso Pensi che potrebbe seguire i miei passaggi? E tu sei nulla di più che un altro piccolo piccolo codoncchio Tutto un sacco, nessun sostegno Ah, credo Vaughn ha il trattaccio a lavorare Vaughn? Quasi... Sebbene in effettivo contro attacchi normali e elementali Lo schermo per vestirsi garantisce una immunità totale allo spettro visivo Un poster molto comune nelle pareti della camera da letto Di un... vorrebbe essere poeta e scrittore di canzoni Beautiful Dionysus Ah, Dionysus! Ah, da Dioniso, ok Ehm... Aspiration location for many wanderlust Vabbè, comunque una... Una destinazione per molte... Wanderlust trick lust è tipo lussuria Per cui insomma Immaginate un tipo Las Vegas Pluttanesco e cose varie Ok Analisi chimica Ehm... Stampata su una pellicola istantanea Ehm... Decay, penso sia tipo la decadenza Tipo questi stili Carboneo 14 Ehm... Indica che la... La foto è stata scattata circa 15 anni fa Ehm... Come dice qua Ah, la foto è stata scattata da un delphotostock Level decay Ehm... Ah, chiaramente dice che questa qua è di una marca Scrausa Per cui invece se fosse stata presa con una Hyperion Sarebbe stato un decadimento molto inferiore Ehm... Ciacchetto Ehm... Fatto una... Manifatturiero locale Analisi inconclusiva Fatto il 72% della pelle di Rack Ehm... 28% da Malivuan Plastil Immagino che sia un... Un acciaio plastico E... 0,6% duct tape Tanto il duct tape sarebbe il nastro adesivo sta ovunque Ehm... Outfit analysis Meh... Come a dire... Non è molto bello Ehm... Vedere... Ehm... Frontierismo pandoriano Ehm... Ehm... Moda Una guida per il pioniere e l'esperto Bumper seeker Hollow point radio Frequenza sconosciuta Osto sconosciuto Scopo Anti Hyperion propaganda Ehm... 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 Hollow point radio Ma... I manager hanno deciso Dehm... Che non gli piace Fondamentalmente Ok non c'era nient'altro qua Ah no già l'ho vista Purtroppo qui non posso neanche schippare una volta che clicco Ehm... Maxi poster Ehm... 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 Qui... Oh... Weapon crate Immagino non ci sia una mazza però Ehm... Ma non ce lo fa aprire C'era qualcosa dietro al giacchetto? No... Penso che non potremo... Aprirlo No... Non possiamo vedere nient'altro qua Per essere raro? Ci sta la porta... Non si può salire qua? No... Non c'è nient'altro Ok apriamo Supero analisi di tutti Felix Non si sa l'età Non si sa dove viene Occupation upstanding citizen Quindi diciamo che è un... Un cittadino sopra la media Che si comporta in modo molto corretto Ehm... Stato attuale Battito accelerato Ehm... Ha una lunga storia Ehm... Scritto da bimbo minchiese Di... Ehm... Essere... Cioè praticamente questo qua è stato chiaramente Dei dati che vengono presi da... E sono stati sostituiti tipo hackeraggio Perché dice... Essere un cittadino provetto Insomma è amico... Di chiunque... Tu possa aver sognato... Ehm... Di cui tu non possa mai sognare E possa commettere un crimine Ok sì... Direi che è stato decisamente hackerato Come è dato Ehm... Dovrebbe essere grilletto facile Ehm... Sì... La Slippery and Dangerous Subject Ok... Nel senso per... Nonostante non sia tosta come la sorella E' ancora un tipo abbastanza... Slippery e scivoloso Barra viscido E pericoloso Tutto di per sé Fiona Lei ha 29 anni Ehm... Ehm... E' impaziente Ehm... Questa Pandoriana Che se si era mai così in italiano E' ricercata per... Multime accuse di... Di frode Ehm... Falsificazioni Ehm... Beh... Rally di Hyperion RM9452 Un accountant C'è un colore preferito E' Goldenrod Va bene Favorite book Mind the Gap Con due A Comunque... Vediamo un po' che dice Perché Mind the Gap E' chiaramente basato sull'avviso Che vanno a Londra Sua London Tube Sulla Metro Qui è... Generally accepted accounting principles And you Current status Dreading everything Ok... E' abbastanza timoroso Di qualsiasi cosa Abbia intorno Ok... Salve ragazzi Avremo un po' di problemi A recuperare il denaro Cosa è successo? Siamo sbagliati di guardare e studiare Quindi abbiamo deciso di camminare nel deserto E abbiamo sbagliato e studiato che Tu hai sbagliato tutto il luogo A presto Sbagliato un pochettino A presto 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 Quindi hanno lasciato un sacco di marchi ingegni per l'estrazione Ok Vediamo poi i banditi Agitati Igeni nessuna Molto armati Un tipo diverso di lunatici Assassini psicopatici Yahus, non so cosa sia Hooligan Scavezzacollo Pazzi Neherdowels No, questa mi manca Neherdowels, vabbè Neherdowels Bene, tutti eccitati a riguardo qualcosa Probabilmente l'omicidio Va bene Non ho trovato nient'altro di veramente... Ah, ma vaffanculo questo Eh, hai visto? Ci ho messo solo vent'anni Dico tutti così Mi sa che si riferisce a noi Beh, non te lo hanno aperto un po' la strada Oddio Mentre lo racconta Lo vedo fare le cose Immagino che non vada così Fiona e Sasha troviamo cover in modo da vedere Ehi là Ciao Sì Immagino Che se ne siano già tutti andati Ero sicuro Perchè fanno tempo e tutto mentre io vivo nel mio mondo? Sembra Scraps Ma il mio modo avrebbe funzionato Ero sicuro Adesso sono curioso di vedere cosa sarebbe successo se avessi fallito a fare i cuti Fiona? Au, quale stai facendo? Ho questo, ok? Dicami un secondo Quanto siamo coatti? Fiona Fiona, aprivi perciò Ehm 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 Ehm, ti è vero, ora aprivi la piazza! Ehm, ti è spero che questo avessi fallito Ehm, ti è spero che non era quello che volevo fare Parliamo di cose serie Esatto! Ehm, adesso mi punti le armi E andiamo Oh, spostamos eh Oh, sono solo tre Ecco la valigetta Ma avranno già svuotate i soldi? Oh, hanno il money! Ehm, questo ci farà ammazzare Aspettate, aspettate, aspettate Parliamo! No, è troppo tardi Ehm Meglio essere cauti Dobbiamo arrivare a questo lift Sì, facile Io prendo l'altro a destra, ti prendi l'altro a destra? Ehm Oh, pensi che puoi capire? Ehm No, io vorrei che tu facessi i tuoi entrambi Ehm, lo so che te Hyperion, ragazzi, non piace mettere le tue mani Esatto Ehm Ehm Con il mio grandissimo Stambaton Ehm C'è ragione, fanno schifo, ma shhh Sono l'ultimo grido nella moda Eh, sneak up Però se tu mi cambii telecamera non me ne accorgo molto bene Mazzavo Lei è brutale Meh Dai 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 dai, non fai le furie di merda Nooo, sto per fare una figura di merda, sto per fare una figura di merda Eric? No, è tu? Dai! Che è questo? È vero o è un... È vero? È vero? È vero? Sì, vero, vero, non è Eric Dai Non è Eric, è il tuo... DOOM Stopi squirmi Ne hai qualche aiuto qua? Nooo Ehm, sembra che sei strettato Ho capito Ehm, non è quello che sembra da qui Non, 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 non Non, non, non Ma pure lui lo dice Wow! Anche i banditi hanno preso Dai! No, lo stampatore mi ha preso Ahahahah, no, ho capito Vabbè Vabbè, man Wow, benissimo Cosa posso fare di figo? Ehm... Devo... Prendere qua Wow Dai dai, era fichissimo Almeno... Oh, thumbs up Ok, grande Allora siamo un'altra di thumbs up anch'io, dai Mica come Hyperion L'Apple è smanettona? Brava No, non è brava No, no, buona, buona, buona Ma non è il metodo giusto Tocca a amarli, computer Ehm... Hackett Smackett Abbiamo detto di non farlo Vabbè 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 Vagamente Vagamente Sì, ho capito Siamo la vera Quindi... Puoi lasciare un po' Ehm... Oh, credo di parlare Dicendo che i tuoi bossi Ehm... Quello è uno stronzo, eh Tranquilla Ehm... Cosa c'era? Cosa c'era il sistema di potere iniziato? Na merda Na merda E leccare gli anche il culo ai miei capi Un'universo divina E' divertente? E' qualcosa che ti piace? Ehm... Ehm... E' solo curiosa Guarda Quando ero 10 anni Ho iniziato un club con i miei amici Solo per avere un'escula per prendere i giudici Allora ho mai chiesto Era fare una scuola Mi credo che sia la maggior scuola Quindi... Sì Beh, questo è il più triste Che ho mai fatto E' cercato di aprire qui Questa è la scuola La storia riguarda piccole copie Ehm... Ehm... Io ho... Concentrati Ehm... 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 Sì Ehm... Posso aiutare? Se il tuo stun baton È il JR4000 Posso... Posso lo vedere? Aspettalo Credo che dovrei dire Ma se io diciamo Per favore Che cosa fanno più difficile per te? Perché non sto a dire Per favore Ehm... Anche se io ho dicono Per effetto Mi fotte anche la stampa donna? Sì Mi fotte anche la stampa donna? Sì Non... mi fotte Oh, ragazzo, tu... tu potresti lavorare per le migliori corporazioni del mondo Avevi fare delle cose cool Sì, è vero che questo è il caso con le maggiori corporazioni Grazie Buon lavoro Mi sembra che questo sia intascato comunque E... mi fotte la vaga, tipo quando uno ti presta la penna E poi... Ci ha fottuto, ci ha fottuto Ok, sono impressionante Credo che non sei completamente utile dopo tutto Oh, scocche, vuoi dire? C'è, fottuto lo stampa donna, io ribadisco Ecco Zero secondo me Ehm... secondo Comando No, non era il comando giusto Ohohohohoho Ehm... 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 Ehm...